Benvenuti a questa edizione di contatto del 6 di marzo, la sto registrando praticamente di notte e vorrei dedicare questa edizione interamente all'arresto di Francesco Bellavista Caltagirone, avvenuto come saprete nella giornata di lunedì nell'ufficio del sindaco di Imperia Strescino, un sindaco del PDL molto vicino a Scaiola, arrestato nell'ambito di un'inchiesta che si è sviluppata in due filoni che riguarda la costruzione del porto turistico di Imperia, quello che doveva essere il più grande e prestigioso porto del Mediterraneo, come sognava Scaiola e che invece a quanto pare si è trasformato in una sorta di relitto che potrebbe non andare avanti e se questa inchiesta addirittura aperta autonomamente dal Ministero dell'Ambiente dovesse arrivare in porto potrebbe appunto il porto stesso essere completamente demolito in quanto una serie di presunte irregolarità stanno appunto minando questo progetto e intanto gli indagati sono cinque, ivi compresi l'ex Ministro dello sviluppo economico suo personale visto che Beato Luis ha visto regalare una casa al Colosseo a sua insaputa, ebbene dicevo l'arresto di questo personaggio è una prima tappa importante di questa inchiesta grave che coinvolge ovviamente imprenditori da un lato e amministratori pubblici dall'altro in quanto violazioni di normative di ogni tipo e corruzione sono alla base di queste indagini condotti da due magistrati di questa procura che adesso vi racconto proprio dall'inizio intanto l'immagine e dunque la notizia battuta dalle agenzie, porto d'imperia, truffa aggravata arrestato a Caltagirone, bella vista che ricordiamo è compagno della Cozzi Parodi che è figlia di Pier Giorgio, Cozzi Parodi finito condannato a sei mesi per favoreggiamento in un'inchiesta di Ospedaletti, paese vicino a Sanremo, il cui sindaco Parrini dell'Udc era stato condannato in appello in un'inchiesta di corruzione sulle licenze edilizie, ebbene la figlia è dunque compagna di Caltagirone Bellavista e Caltagirone Bellavista è molto amico di Scaiola, amico anche in qualche modo di Fiorani e di una serie di personaggi che andremo a rivisitare velocemente ripercorrendo la storia di questa inchiesta come dicevo che è nata su alcune segnalazioni di violazioni presunte e forse anche vere di normative e di procedure per l'assegnazione degli appalti di questo porto, un porto che inizialmente doveva costare circa 25 milioni di Euro, ma che poi col passare del tempo questi milioni sono diventati 5 volte di più, addirittura 10 volte di più perché oltrepassano i 200 milioni, un'opera che vista dall'alto di Google Earth vede appunto, come vedete, questo porto che si apre nel mare di Imperia che è divisa da Oneglia e Porto Maurizio, due borghi unificati da Mussolini nel 23 che hanno creato questa città capoluogo di provincia dove abita peraltro appunto Claudio Scaiola, un porto dunque turistico che doveva essere la panacea a tutti i mali economici locali e che invece pare appunto diventare un grosso problema e che era nato appunto grazie a questa inchiesta nata anche su segnalazione di due consiglieri del PD, si chiamano Paolo Verda e Beppe Zagarella che presentarono un esposto qualche anno fa per un gigantesco capannone che era sorto nell'area portuale, un porto che doveva dare posto a 1440 imbarcazioni e a 117 appartamenti, il tutto realizzato appunto dall'Acquamare di Francesco Bellavista Caltagirone che vediamo anche in questa immagine, dovrebbe essere qua, eccolo qui, noto anche per aver partecipato all'accordata di Alitalia, sponsorizzata dal governo, l'Acquamare a sua volta detiene un terzo della società Porto d'Imperia S.P.A., sempre riconducibile a Caltagirone Bellavista, un altro terzo invece del comune d'Imperia e l'ultima fetta invece è in mano agli imprenditori locali, tra cui risultava anche Pietro Isnardi che è consuocero di Alessandro Scaiola, che è fratello dell'ex ministro Claudio, che qui vediamo ritratto durante un comizio al porto in cui organizzava una marcia contro i magistrati per questa iniziativa, per questa inchiesta e ricordiamo che Isnardi è anche suocero di Marco Scaiola fino a pochi mesi fa, vice sindaco della città d'Imperia. C'è da dire che attorno a questo porto c'è anche la figura di Angelo Balducci, come ricorderete era l'ex presidente del Consiglio dei lavori pubblici di Palazzo Chigi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul G8 su mandato dei magistrati della Procura di Perugia, che indagano anche Scaiola per la Casa Colosseo e dunque Angelo Balducci era stato nominato commissario, questo personaggio della Cricca, commissario che doveva costituire l'organo di vigilanza di questo porto, di questo progetto. C'è anche un volo in elicottero che va ricordato che risale nel 2003 che sorvolava la zona dell'allora Imperia, ancora forse vergine da un punto di vista ambientale. Prima che partissero i lavori nel 2003 c'era Fiorani, Scaiola e Caltagironi per visionare queste opere, però poi nel 2006 ci fu appunto il taglio del nastro dei cantieri, alla presenza anche di Burlando, già Presidente della Regione Liguria. Ci fu una polemica con il responsabile della CGL locale Claudio Porchia, in quanto già sollevava la questione di alcune irregolarità per l'assegnazione di questo appalto che provocarono una querela da parte dell'ex Ministro nei confronti, anzi, chiedo scusa, Porchia che querelò Scaiola appunto in quanto il Ministro disse a Porchia di non essere il sindaco di Imperia, di essere a capo di un gruppo parassitario che non conta un tubo e che non prende un voto e dunque le ruspe continuarono a scavare in questa zona del porto, nonostante un'inchiesta per le variazioni in corso d'opera, che peraltro hanno certamente contribuito a lievitare i costi di questa impresa, una situazione paradossale perché peraltro per consuntire questa autorizzazione e la costruzione era necessaria una variante del comune di Imperia che essendo proprietario di un terzo delle azioni di tutto il lavoro praticamente rischiava di pagare a se stesso delle sanzioni, alla fine però ci fu una richiesta di archiviazione nonostante le sollevazioni di Porchia e qui appunto si affaccia come detto Balducci, l'uomo della Cricca, che praticamente viene nominato Presidente della Commissione incaricata di verificare la conformità del porticciolo d'Imperia alla concessione demaniale che doveva stabilire gli oneri che il concessionario, ossia in questo caso Bellavista-Caltagirone doveva pagare allo Stato. Una verifica amministrativa ma anche contabile su cui puntavano gli occhi Bellavista-Caltagirone, Beatrice Cozzi-Parodi che è appunto la compagna e socia anche di questa società e la prassi in questi casi che si scelga un membro dell'amministrazione invece venne appunto il disegnato Balducci, lo scelse probabilmente dal loro sindaco d'Imperia Luigi Sappa che attualmente è Presidente della provincia d'Imperia e che appare in questa immagine con l'attuale sindaco Strescino, oggi Sappa è Presidente della provincia e questo con gli occhiali è Strescino, pure lui con gli occhiali un po' più giovane è appunto il sindaco di Imperia. Nel 2009 viene inaugurato il Molo Lungo, quindi una prima tranche di questo porto alla presenza di Scaiola e di Fedele Confalonieri, Presidente della Mediaset. L'ultima tegola è il parere dei tecnici della regione Liguria che denunciano come il concessionario non ha fornito la documentazione necessaria per svolgere pienamente i compiti, nonostante richieste in tal senso siano state espresse e ripetute più volte e poiché la Commissione ritiene che il comportamento del concessionario, ossia Bellavista-Caltagirone, costituisca una violazione degli obblighi previsti, sospende la propria attività chiedendo alle autorità di valutare l'opportunità di procedere all'avvio del procedimento in decadenza della concessione firmato Ingegner Roberto Boni, ossia il tecnico indicato dalla giunta Burlando, dunque dalla regione Liguria, che negli ultimi anni ha mostrato appunto cauteli nei confronti di questo progetto. Dunque la concessione e le accuse provocano il ritiro della concessione vera e propria che sarebbe stato un terremoto effettivamente per tutto l'appalto, per tutto l'Ambaradan costruito fino a quel momento. Dunque l'apporto d'Imperia-SPA aveva replicato le sue motivazioni e però non aveva dato spiegazioni, insomma, o meglio, gli accresciuti costi di 110 milioni fin lì accertati erano destinati secondo loro all'aumento alla maggiore qualità, bellezza e durata dell'opera e si premuravano di spiegare che comunque questo aumento delle spese sarebbe stato completamente a carico della società Acquamare di Bellavista-Cattagirone e gli enti pubblici non pagheranno un euro, dicevano loro. Però appunto secondo questi consiglieri del PD non era vero, poiché la società a cui si sono rivolte le fatture partecipate dal comune e temono che appunto un terzo, essendo il comune d'Imperia proprietario, ricadessero sui cittadini. Questo aggravio, questo aumento di spese non avevano certamente torto. Comunque va da sé che va considerato appunto che le scatole cinesi, la porto d'Imperia di Cattagirone aveva affidato la realizzazione di questo porto all'Acquamare di Cattagirone sempre, che a sua volta aveva affidato il ruolo di stazione appaltante alla peschiera SRL, sempre del gruppo di Cattagirone, che infine aveva subappaltato ad altre due società, Sielt ed Euroappalti. Tutto questo aveva certamente contribuito a un aumento di fatturazione. Veniamo un po' più avanti, sempre nel 2010, al 5 agosto. La Polizia Postale va in regione Liguria per acquisire la documentazione relativa alle presunte irregolarità. I PM Imperiesi, Alessandro Bogliolo e Maria Antonia Di Lazzaro indagano sulla lievitazione di questi costi. Dunque l'inchiesta è partita. Gli indagati sono 5. Francesco Bellavista Cattagirone reagisce con la querela nei confronti di Boni per diffamazione. Pochi giorni dopo viene sollevato dall'incarico il direttore dei lavori per le opere marittime del porto, che si chiama Valentino Castellini, ufficialmente per non aver voluto sottoscrivere una relazione a firma del direttore generale del cantiere Emilio Morasso, un architetto. In realtà però si è saputo che tutto ciò era avvenuto perché non aveva sottoscritto documenti contabili trasmessi alla commissione del collaudo, appunto quella presieduta da Boni, autore dell'esposto inviato in procura, che ha contribuito a generare questa inchiesta, questa indagine per capire perché il porto d'Imperia era così lievitato nei costi. Emilio Morasso si è dimesso alla vigilia di ferragosto del 2010, per ritardi nei pagamenti di oltre mezzo milioni di euro che attendeva da Caltagirone, al suo posto in settembre si è stato nominato l'architetto Marco Filippo Alborno, progettista di fiducia del gruppo Cozzi Parodi, gradito a Scaiola. Il 27 agosto del 2010, dunque dopo due settimane, arriva l'avviso di garanzia al presidente della Porto Imperio S.P.A., che si chiama Paolo Calzia, per violazioni ambientali ed emaniali in riferimento alla montagna di terra sulla spiaggia nel cantiere di San Lazzaro, una fetta di Porto. Intanto emerge che le imprese creditrici in subappalto lamentano di essersi viste offrire in cambio di contanti, che aspettavano dunque i soldi per essere pagate per il lavoro svolto fino a quel momento, in realtà gli hanno effetto dei posti barca, un po' come oggi le aziende creditrici dello Stato si vedono offrire titoli a debito, titoli tossici, Caltagirone offriva appunto i posti barca, lamentavano queste aziende creditrici, oppure addirittura appartamenti nelle vicinanze del complesso golfistico del Croara Country Club, che non era imperia, era nelle campagne tra Piacenza e Tortona. Dunque questa è un po' la situazione di caos che si era venuta a creare. Veniamo intanto a ottobre del 2010, Claudio Scaiola ha indagato di associazione a delinquere e finalizzato la turbativa d'asta in concorso con Bellavista e Caltagirone per aver aggirato le normative sugli appalti pubblici. La cosiddetta legge Merloni, in particolare la procura d'imperia, contesta che non sia stata indetta gara pubblica per l'aggiudicazione dei lavori e che le trattative siano state condotte personalmente da Scaiola. Ecco una delle ragioni che hanno portato dunque a questa inchiesta, uno dei primi sviluppi, anziché indire un concorso pubblico per garantire trasparenza nella giudicazione dei lavori di questo porto, Scaiola avrebbe favorito il suo amico Caltagirone, in cambio affinché Caltagirone in qualche modo poi offrisse il suo supporto con Fiorani alla cordata all'Italia. Comunque, dunque l'indagine a carico di Scaiola e di Caltagirone non è nuova, risale all'ottobre del 2010, a circa un anno e mezzo fa e la contropartita del favore sarebbe stato appunto, come detto, il sostegno nell'operazione di salvataggio all'Italia. Il commento di Scaiola fu, la sensazione netta è quella di un tiro al bersaglio, vi risparmio le altre dichiarazioni di Scaiola. Il giorno dopo, dunque il 22 ottobre del 2010, l'ex ministro organizza una passeggiata contro i magistrati dicendo che in tempo di verminai e nefandezze, insomma hanno tempo di dedicarsi a noi, il tutto avvenne a Calatanselmi, a Imperia, punto di blocco dei lavori di costruzione del porto, dopo l'avvio dell'inchiesta. Dunque gli indagati abbiamo detto che sono cinque, Scaiola, Caltagirone, però c'era anche il direttore generale Carlo Conti, che adesso è in carcere assieme a Caltagirone, l'ex segretario generale del comune che oggi è consulente di Sappa, il signore con gli occhiali che avete visto prima, che si chiama Paolo Calzia, che è della Porto Imperio e Presidente, e infine anche Domenico Gandolfo, che è l'ex direttore generale del porto, fino al 2007. E qui siamo a ottobre, veniamo a dicembre del 2010, il Ministero dell'Ambiente, retto dall'allora ministra Stefania Prestigiacomo, compagna di partito di Scaiola, apre una sua inchiesta per verificare gli effetti delle violazioni e stabilire se si debba procedere alla demolizione di eventuali moli, banchine e altre opere, a questo punto abusive, del porto turistico più grande del Mediterraneo, quello che sognava Scaiola. L'allora ministro Prestigiacomo, attraverso il direttore generale del settore valutazione ambientale Mariano Grillo, ha incaricato l'ARPA Liguria di accertare la conformità al progetto e il rispetto delle prescrizioni a suo tempo impartite col decreto circa le modifiche progettuali intervenute e le opere comunque realizzate. Il Comune e società avevano tempo due mesi, 60 giorni, per rispondere al Ministero. Veniamo al gennaio 2011, porto d'Imperia, indagato il sindaco d'Imperia Paolo Strescino, che è questo signore di destra, in quanto l'accusa è di aver fatto pressioni sull'allora dirigente dell'ufficio d'Emanio, Pierre Marie Lunghi, affinché evitasse di far revocare la concessione del porto a Caltagirone, bella vista, determinante per il prosieguo dell'inchiesta. Una lettera intimidatoria inguaiava il primo cittadino d'Imperia, indagato di violenza privata, assieme al segretario generale del Comune Andrea Matarazzo. Lunghi era appunto questo signore che aveva fatto l'esposto in Procura sollecitando le fatture, dove sono le fatture della lievitazione di questi costi, che da 20 milioni andiamo a 110, poi a 200. Tutta risposta, quando pare il sindaco avrebbe fatto questa intimidazione, c'è stata questa indagine, che francamente non so dove sia finita. Dunque Lunghi aveva decretato la revoca della concessione all'apporto d'Imperia di Caltagirone per la mancanza delle fatture che hanno fatto lievitare i costi. Siamo al 21 gennaio dell'anno scorso. 31 gennaio si dimettono il vice sindaco d'Imperia, Lanteri, indagato a sua volta per concussione per una pratica edilizia relativa a un suo cugino, tal Bruno Peirano, risalenti al 2003, dunque di quando era assessore al bilancio per violazioni, anche in questo caso nell'assegnazione di alcune pratiche edilizie, e si è rimesso anche l'assessore al bilancio del comune, Marco Calcagno, motivazione, crisi di nervi. Sono subentrati al loro ruolo a Imperia nel comune, partecipe per un terzo al porto, il segretario cittadino, coordinatore cittadino del PDL, che è Rodolfo Leone, e Nicola Falciola, quest'ultimo già Presidente del Consiglio Comunale, mentre invece Leone fu assessore nella precedente giunta. Dunque Leone, coordinatore cittadino del PDL, dunque uomo di Scaiola. Quindi cambiare tutto per non cambiare niente. 18 febbraio 2011, la Commissione Verifiche della Regione Liguria ha sospeso la sua attività relazionando la situazione, dunque il porto di Imperia non è più collaudabile, il balzo da 80 a 209 milioni nel mirino del dossier che si ripercuote subito sui proprietari dei posti barca che già avevano antecipato dei soldi perché credevano che il porto finisse, e invece si ritrovano con quest'opera in ritardo sui tempi previsti e si ritrovano con un posto in una struttura ancora priva del nulla osto regionale. 14 aprile 2011, la PM di Lazzaro interroga tre magistrati, sono Enzo Di Sciascio, Oreste Mario Caputo e Davide Ponte. Sono i tre magistrati del Tar che il 4 marzo precedente, cioè di un anno fa esattamente, avevano annullato la revoca della concessione alla porto di Imperia, nonostante dovesse pronunciarsi solo sulla sospensiva richiesta da Porto Imperia, dunque avevano dato ragione a Bella Vista che nel frattempo si era opposto a questo provvedimento di Lunghi ricorrendo al Tar. Il Tar, questi tre magistrati, diedero ragione a Bella Vista. Secondo i giudici, Lunghi non era titolato a fare questa richiesta. La sentenza fu criticata in quanto uno dei tre magistrati del Tar della Liguria, ossia Davide Ponte, dal 2009 era anche capo dell'ufficio legislativo del ministro del turismo Brambilla per un compenso di 61 mila Euro, dunque doppio incarico, giudice al Tar e anche capo dell'ufficio legislativo del ministro Brambilla, amica di Bella Vista Caltagirone, paparazzata assieme a lui a una cena un anno prima. Il presidente del Tar Liguria, Santo Bilba, nella sua relazione di apertura dell'anno giudiziario, aveva detto che i giudici devono fare solo i giudici e non tante altre cose. Devono essere ben retribuiti per non essere sensibili alle lusinghe degli incarichi extra-giudiziari e delle carriere parallele. Veniamo a ottobre 2011, interrogato Gian Piero Fiorani, in compagnia sull'elicottero famoso con Caltagirone, l'ex vice sindaco di Missionario e anche Scaiola, cosa dice Fiorani, chiamato come persona informata dei fatti non indagato in questa inchiesta sul porto d'imperia. Dice che fu l'allora ministro Scaiola a contattarmi e a farmi incontrare, col volo in elicottero col costruttore Caltagirone e Bella Vista. Voleva chiedere alla nostra banca di finanziare l'operazione del nuovo porto d'imperia, ma a me interessava il centro residenziale di Talcementi. Queste sono le dichiarazioni di Fiorani, in quanto per i magistrati è importante stabilire la conseguenzialità dei fatti per capire se ci sono margini di responsabilità anche da parte di Fiorani e amici perché devono fare il raffronto di alcune dichiarazioni che nel frattempo hanno rilasciato questi indagati. Il fatto sta che adesso Bella Vista Caltagirone è in galera perché la PM titolare di questa inchiesta lo accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato per 500 mila Euro e a quanto pare questi 500 mila Euro sono emersi dai file nascosti in questi PC che sono stati esaminati e sequestrati nell'ambito di tutta l'inchiesta che stanno cercando di capire tappa a tappa per ricostruire questo costo assurdo di un porto di una città di 45 mila abitanti che si ritrova ad avere quasi quasi un porto di 200 milioni di Euro quindi costato 10 volte di più del costo iniziale con la scusa che i soldi ce li avrebbe messi tutti la società appaltatrice quando invece essendo per un terzo anche proprietario del comune e dunque cittadini di questo porto si rischia che l'aumento del costo si ripercuota negativamente sulle casse di tutti e dunque sui conti pubblici e sui conti di tutti. Ecco allora l'indagine ecco allora dunque che tutto è fermo e in attesa ovviamente di capire adesso le reali responsabilità eventuali di Scaiola visto che ha indagato di associazione a delinquere assieme a questa persona per capire se anche Scaiola ex ministro allo sviluppo economico suo proprio visto grazie alla casa da Colosseo per capire se ha delle responsabilità maggiori magari ha avuto dei vantaggi personali o collegabili a lui in questa operazione mostruosa in cui si parla di tanti milioni per un porto che a Imperia non è l'unico in quanto nella vicina 20 miglia se ne sta costruendo un altro dove non ci sono ancora indagati ma che ci sono dei collegamenti in un comune 20 miglia sciolto recentemente per presunte collisioni mafiose dunque l'ex sindaco Scullino Scaiolano non è più sindaco esattamente come a Bordighera dove il porto non esiste ma esiste anche lì un comune sciolto commissariato di un sindaco Pidiellino Scaiolano Talbosio non indagato nelle inchieste ma indagati i clan ai quali avrebbe favorito e dato degli appalti ai lavori alla comune di Bordighera e che in questo caso però riguardano la procura di Sanremo capitanata dal procuratore Cavallone Roberto che sta conducendo inchieste parallele che ha già portato praticamente al giudizio clan dei Pellegrino e dei Pepe che sono clan locali insomma di origine calabrese che a quanto pare sono padroni e padrini di molti appalti locali in provincia d'Imperia dunque questa inchiesta del porto d'Imperia potrà certamente portare a ulteriori sviluppi e se ci saranno sarò lieto chiaramente tempo permettendo di darvi altri aggiornamenti a presto